Sono ministro e poi ho deciso di tornare in regione, potevo benissimo ricandidarmi a Roma nel 2013, ero segretario federale della Lega e ricorderete che quando mi sono candidato in regione Lombardia non mi sono candidato contemporaneamente alla Camera, potevo farlo ma non l'ho fatto, ho fatto all in, ho giocato tutto e per me, per un federalista, per un autonomista vero, tornare sul territorio è la cosa più importante, non è importante fare carriera, partire come di solito si pensa, partire da Varese per andare a fare il ministro, l'ho già fatto e voglio tornare qua, capisco che è una cosa un po' strana, ma è così, per me il territorio è la cosa più importante. E' vero che stasera butterà anche qualcosa di pratico, concreto, penso a Piazza Montegrappa o penso ancora, è vero? Va bene, vedremo, ascolterò. Grazie ragazzi.